molti conoscono la mia passione per il brasilian jiu jitsu ed è qualcosa che non è neanche facilissimo da spiegare da spiegare in generale è una cosa che ho trovato invece venga estremamente condivisa dai miei colleghi della kramaga global più o meno tutto il mondo probabilmente per la natura del brasilian jiu jitsu che è un tipo di attività che da una parte senza compromessi e dall'altra è estremamente sincera realistica nel termine in cui tu ottieni esattamente quello che metti se è chiaramente una buona guida e se è un buon gruppo ho pensato di fare questo video perché da poco ho conseguito la cintura marrone ed è un passo che molto onestamente per il quale io non mi sentivo preparato e tuttora non mi sento preparato ma è anche vero che come è stato per la cintura viola come è stato per la cintura blu uno non è mai pronto non si sente mai pronto c'è sempre qualcosa che andrebbe migliorato c'è sempre un'area del proprio gioco della disciplina che uno vorrebbe esplorare meglio prima di fare il passo ma se non si fa il passo da un altro punto di vista e questo io l'ho notato per il mio precedente percorso non cambia la mentalità che ti consente di raggiungere un nuovo livello si ha bisogno di una diversa consapevolezza nell'allenarsi si ha bisogno di una diversa concentrazione nell'allenarsi e quindi e quindi bisogna buttarsi c'è poco da fare bisogna buttarsi accettare il fatto che malgrado non si sia a livello la propria guida il proprio istruttore la propria scuola vede che ci sono i presupposti per raggiungere il livello termino questo video con le immagini quando mi è stata consigliata la cintura marrone e con la passata di botte che mi hanno dato subito dopo che è una bella metafora del percorso che ti aspetta perché un percorso duro difficile e cui devi accettare il fatto che ne prenderai prenderai tante ma è bello così forse è proprio bello perché così grazie